E' ancora avvolto nel mistero il ferimento di un 37enne disoccupato che alle 23 di ieri sera si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Lastaria di Lucera con una ferita a un ginocchio provocata da un colpo di pistola. L'uomo, Giuseppe De Vivo, ha dichiarato ai carabinieri che nel pomeriggio di ieri, mentre passeggiava all'interno della villa comunale di Foggia, aveva incrociato una ragazza verso la quale avrebbe rivolto alcuni apprezzamenti con commenti abbastanza espliciti e a suo dire poco eleganti. Qualche minuto dopo sarebbe sopraggiunto il fidanzato della ragazza che dopo aver apostrofato il 37enne con insulti vari, improvvisamente avrebbe estratto una pistola e avrebbe sparato un colpo all'altezza del ginocchio. I carabinieri che hanno interrogato il De Vivo hanno ritenuto poco credibile il racconto dell'uomo e hanno avviato le indagini per chiarire l'accaduto.